rilevazione la gara inizierà tra 60 secondi 60 secondi io vi lascio il countdown in automatico ritornato buona gara ragazzi, buon cambiamento, buona sabato alla corsa buona gara ragazzi, buona gara ragazzi, buon cambiamento, ci veniamo da 5, a 50 e a 50 e a 50 5, anzi 4 e mezza per 9, 700 per l'esattezza Tony è arrivato piano, non fermatevi in mezzo al bosco sempre bello